C'è anche il reparto di centrocampo tra quelli maggiormente attenzionati dal Taranto in vista della prossima stagione. In realtà, in base a quelle che sono le priorità di Capuano, lo stesso dovrebbe andare incontro a una mini-rivoluzione per quanto riguarda strettamente la zona nevralgica. Mazza e Labriola faranno ritorno rispettivamente alla Ternana e al Napoli e non sembrano rientrare più nei piani. Crecco va valutato e dovrà offrire garanzie importanti dal punto di vista fisico. La posizione dello stesso Provenzano, protagonista di un finale di stagioni in crescendo, resta fortemente in bilico. Servirà almeno un calciatore, forse anche due, capace di dettare tempi di gioco nella fase di impostazione dinamica vista soltanto a sprazzi nel corso del campionato conclusosi oltre un mese fa. Al pari della mediana, anche l'attacco sarà oggetto di diversi puntellamenti. Si proverà a riportare in rosso-blu Tommasini, autore di 8 gol e a tal proposito sono già stati avviati i primi contatti con il Pisa. Per il resto, escluso Bifulco, sarà cambiamento totale, anche perché molti di quelli della scorsa stagione erano a Taranto in prestito. Discorso differente per Semprini con cui si proverà a rescindere. Grazie